Partiamo dall'Ariete. Giornata di corse e con qualche piccolo incidente di percorso. Nessuno ha voglia di darvi retta e la cosa alla lunga potrebbe farsi frustrante. Toro, non perdetevi dietro a troppi impegni che potreste non essere in grado di seguire a dovere. Meglio fare meno, ma farlo meglio. Proprio come piace a voi. Un collaboratore rimarrà ben impressionato dalle vostre conoscenze. Gemelli, la stanchezza a tratti vi rende difficile pensare come dovreste. Guardate avanti senza troppi problemi. Tutto quello che fate alla lunga vi porterà vantaggi e fortuna. Qualcuno di voi fa fatica a fare ordine nel suo cuore. Cancro, in amore avete troppe idee confuse, così rischiate di sbandare da una parte all'altra senza portare a casa nulla di buono. Per questo vi consigliamo di fare un po' più di luce in voi stessi prima di combinare qualche pasticcio. Leone, abbiate un po' più di riguardo nei confronti di un collaboratore che non sempre risponde alle vostre attese. Arrabbiarsi serve a poco, magari cercate di spiegargli meglio cosa vi aspettate da lui. Vergine, qualcuno di voi avrebbe bisogno di trovare un po' della serenità perduta. Sono giornate pesanti in cui tutti sembrano pretendere un po' troppo da voi. Invece di sentirvi perseguitati dal mondo, diluite i contatti. Bilancia, le questioni di lavoro richiamano tutta la vostra attenzione. Potendo, cercate di tenere sott'occhio il lavoro di un collaboratore le cui disattenzioni potrebbero ricadere su di voi. Scorpione, la vostra mente vaga da tutte le parti e così si perde in troppe cose dimenticandosi le vostre priorità. Perciò non stupitevi se poi vi aggiungerà la telefonata arrabbiata di qualcuno che aspettava una risposta di lavoro mai giunta. Sagittario, non preoccupatevi più di tanto di quello che può pensare la gente delle vostre storie private. Finché non fate del male a nessuno, della vostra vita sentimentale dovreste risponderne solo a voi stessi. Capricorno, il sole brilla sulla testa di chi vuole vederlo. Certo che se vi ostinate a guardare sempre a terra, difficilmente potrete vedere tutte le cose che il mondo vi può offrire. Acquario, avete dei progetti a tratti un po' troppo ambiziosi. Perciò sul lavoro state attenti a non voler mirare troppo in alto dato che potreste facilmente prendervi un no in faccia. Pesci, con certi atteggiamenti rischiate solo di fare nervosire un superiore influente. Perciò cercate di fare i bravi prima che i vostri capricci diventino un po' troppo anche per chi vi vuole bene. Sul lavoro non è il caso di prendersela ogni minuto per ogni cosa. In amore, occhio a quello che dite al partner. grazie. Grazie a tutti